Ragazzi, prima di iniziare voglio ricordarvi che il 25 gennaio verrà rilasciata la prima beta di Anthem Il che vuol dire che dal 26 inizieranno a uscire sul canale video dedicati Quindi mi raccomando, non mancate e godetevi il video E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete detto dal titolo, siamo finalmente tornati su Anthem Oggi infatti andremo a parlare delle novità che sono state rilasciate ultimamente sul canale ufficiale di Anthem E che riguarderanno la storia, la personalizzazione dei nostri strali e le modalità di gioco In Anthem il nostro gioco sarà suddiviso in tre differenti attività La principale ovviamente sarà la storia, avremo però anche delle quest che ci ricompenseranno con degli armamenti particolari E ultima ma non meno importante, la modalità gioco libero Per quanto riguarda la storia, bene o male siamo già riusciti a capire di cosa si tratta Invito quindi chiunque non voglia spoilerarsi niente riguardo alla trama del gioco a schippare questa parte In un mondo post apocalittico abbandonato dai suoi creatori Gli specialisti proteggono le ultime città grazie agli strali Delle tutte robotiche in grado di fornirci capacità sovrumane Grazie agli strali possiamo infatti combattere, volare e addirittura nuotare All'interno della nostra campagna però Non dovremo affrontare le creature del caos che abitano nel mondo di Anthem Bensì una fazione di uomini Bensì una fazione di umani chiamata il dominio Questo gruppo di fanatici vuole mettere le mani sul lino della creazione Una potenza misteriosa abbandonata dai creatori In grado di creare e distruggere qualunque cosa Il dominio quindi grazie a questo enorme potere Riuscirà a scagliarci contro le creature mostruose Che dovremmo abbattere fino a distruggere tutta la setta Ovviamente le informazioni riguardanti la storia non sono ancora molte E sinceramente non ci teniamo nemmeno tanto a spoilerarcele tutte Ma andiamo adesso a parlare della modalità gioco libero In questa potremo esplorare tutto il mondo di Anthem Intraprendere le missioni più disparate e scoprire i segreti che riguardano questo gioco Ovviamente tutte le modalità di gioco sono multiplayer Il che vuol dire che potremmo giocarle anche con i nostri amici Sia per quanto riguarda la storia che per quanto riguarda il gioco libero Ma andiamo adesso a parlare dei nostri personaggi O più precisamente dei nostri strali All'interno del gioco potremo utilizzare i 4 strali Guardiano, incentrato sulla precisione Tempesta, incentrato sul danno Colosso, incentrato sulla corazza E intercettore, incentrato sulla velocità Questi si sbloccheranno a livello 2, 8, 16 e 24 Da quello che ho capito dovremo poter sbloccare il guardiano a livello 2 Il colosso a livello 8 Il tempesta a livello 16 E l'intercettore a livello 24 I nostri strali saranno dotati in diversi equipaggiamenti La somma di questi ci fornirà il punteggio equipaggiamento Che appunto non sarà altro che un indicatore di potenza Tuttavia la nostra armatura si divide in due slot di equipaggiamento offensivo Uno slot per l'equipaggiamento da supporto Due armi e sei componenti varie Ovviamente oltre a questi potremo scagliare la nostra abilità ultima In ogni caso se volete sapere qualcosa di più sugli equipaggiamenti di tutti e quattro degli strali Vi rimando ai video passati Una particolarità che ho veramente apprezzato È la possibilità di creare dei loadout fissi In questo modo quindi potremo scegliere con quale stile di gioco affrontare una certa minaccia E selezionare il loadout che più gli si avvicina Gli sviluppatori hanno però voluto esaltare l'aspetto multiplayer del gioco Questo si capisce sicuramente dal fatto che tutte le attività del gioco Saranno sicuramente più divertenti da giocare in squadra In quanto magari utilizzando differenti strali possiamo combinare delle combo fantastiche Nel video rilasciato da Bioware per esempio abbiamo visto la combo colosso e intercettore Mentre il colosso incentrato sull'alta corazza incentra i danni su se stesso L'intercettore può scattare tra i nemici e annientarli in un battito di ciglia Quindi ragazzi queste erano tutte le informazioni sulle meccaniche di gioco Che sono state rilasciate dagli sviluppatori di Anthem Vi invito quindi a rimanere aggiornati sul nostro canale per seguire tutte quante le news Detto questo io direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate, condividetelo Di tutto tutti quelli che conoscete che non conoscete che c'è la talissima Seguite qui su Instagram, Facebook come ogni video Vi lasciamo un costo in descrizione e anche del bellissimo, nuovissimo, falsagissimo sito E dato questo ci vediamo alla prossima Ciao Ciao